Ecco fatto il video di Megamind B-Movie, Shrek terzo, giù per il tubo Shark Tale, Shark Tale, poi c'è Shrek 2 Sinbad, La leggenda dei sette mari Shrek è un film divertente E con Z la formica Scelgo Megamind Si fa così Z la formica, Shrek Sinbad, La leggenda dei sette mari Shrek 2, Shark Tale, giù per il tubo Shrek terzo, B-Movie e Megamind Sistemato Apro io Chiudo io Adesso si Adesso velocissimo Il titolo è quindici E questo io lo volevo Italiano Italiano Titolo tredici Fatto Nel 2011 Preparatevi al ritorno Del pandamonio Il mio pugno ha fame di giustizia Quella era mio pugno Garo di sguardo fisso Via Siete stupendi a proposito Dream Wars Dream Wars Un fufu panda Due Fatto Scusate Scusate Devo premere inizio film Sì Che bello Ok 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 Questo lo vedo io Che bello Alla fine mi ritrovo così Sono finito in prigione Ho perso la ragazza dei miei sogni E mi sono preso un bel calcio nel di dietro Adesso io stacco Che bello Adesso io stacco